Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini risponde a Letta. Letta, segretario del PD, che anche oggi si è svegliato e ha dovuto dire qualcosa su Matteo Salvini. Che cosa ha detto questa volta? Questa volta ha detto che non può fare così, non lo può semplicemente fare. Che cosa? Sapete che Salvini e Meloni hanno firmato un patto in Europa tra vari partiti per voler cambiare l'Europa, per avere un'Europa diversa. Non uscire dall'Europa, non uscire dall'Euro, ma cambiare l'Europa che c'è attualmente. Una cosa normale, un accordo normale tra partiti. È ovvio che i partiti dicono adesso vado al governo io, vado al governo del paese, della nazione, dell'Europa e cambio le cose. Pertanto è una cosa di una legittimità assoluta. Ma Letta ha dovuto dire la sua anche su questo. Dice non può farlo, semplicemente non può farlo. E la Lega gli ha risposto, beh, semplicemente potresti anche uscire dal governo, così la finisci. E così, dopo che la Lega gli ha risposto così, anche Salvini dice, ma aiuti il governo invece di ogni giorno criticare. Dice così il capo della Lega, se io fossi in Letta mi preoccuperei di tagliare le tasse e non di inventarne di nuove o di mettere patrimoniali e di aiutare Draghi e il governo a fare le riforme. Più che criticare, ogni giorno lavorerei per costruire. Così Salvini risponde al segretario PD, lei Letta, che accusa il leader della Lega di avere una doppia linea, in Italia con Draghi e in Europa con Orban. Intanto sul referendum Salvini dice, messaggi con Draghi, mi fa gli auguri. Gli ho spiegato il senso dell'iniziativa, vuole essere uno stimolo. Dice bisogna riformare la giustizia penale tributaria, dice il segretario della Lega, intervenendo al gazebo di Piazza Lauro a Sorrento, a Napoli, per la raccolta delle firme a sostegno del referendum, per la riforma della giustizia. E aggiungo, non dimentichiamo, che ci sono 5 milioni di processi in arretrato, che vuol dire che ci sono 5 milioni di cittadini che attendono giustizia da troppo tempo. Noi sosteniamo la proposta del ministro Cartabia e del presidente Draghi. Questa mattina mi sono messaggiato con il presidente Draghi e gli ho spiegato il senso dell'iniziativa e lo ringrazio per gli auguri. La nostra iniziativa vuole essere uno stimolo al Parlamento e a fare in fretta. e sulla riforma della giustizia conclude c'è qualcuno che frena, penso alla sinistra e a qualcuno dei 5 stelle. Avere tanti cittadini che faranno la fila per firmare è una grande cosa, dice il segretario della Lega, che poi comunque parla sempre di Enrico Letta, dice qualcuno a sinistra vorrebbe dire il ritorno ai tagli e la austerità già dall'anno prossimo. La Lega e i draghi non lo permetteranno. Letta è ossessionato da me e dalla Lega, passa le sue giornate a disfare, polemizzare, provocare. Così fa il male del governo e quindi del paese. Invece di inventarsi tasse sulle case o sui risparmi, invece di volere lo iussoli o zittire il papa, sarebbe utile che il segretario del PD ci aiutasse a tagliare tasse e burocrazia, dice Matteo Salvini. E poi ci sarebbe stata la domanda, cambiando notizia, di Beppe Grillo a Giggino Di Maio, il grande. Domanda così, ma tu con chi stai? E avrebbe chiesto Grillo a Di Maio, è andato a casa sua, sapete che Di Maio è andato a casa di Conte per evitare l'ascissione nel Movimento 5 Stelle. Ma dicevano Conte pensa solo al suo partito, ma in realtà sta aspettando Grillo che gli risolva al problema. Così Conte, dopo aver sondato già diversi bichie, lo piede anche a Luigi Di Maio. Gli dice, ma tu con chi starai? Con me o con Grillo e Casaleggio? Intanto il Comitato di Garanzia, Crimi, Lombardi e Cancellieri, è saltata anche quella cosa del, come si dice, del mettere in minoranza Grillo, di sfiduciarlo anche perché sarebbe più complicato del previsto. E beh, adesso su questo sapete che le cose sono cambiate, Grillo ha eletto i sette saggi per andare in tre giorni a capire che cosa c'è che va bene o cosa c'è che va male in questo statuto. Pertanto questi sette saggi nel giro di tre giorni, adesso ne mancheranno due, devono dire cosa c'è da cambiare, cosa c'è da provare sullo statuto e anche sulla parte etica, eccetera eccetera. E poi così far ritornare Conte come capo politico dei Cinque Stelle. Perché conviene a Grillo? Perché Grillo non ha più voglia di avere problemi, quindi lui vuole continuare a fare gli affari suoi lì a Genova, non intende addentrarsi nei problemi della politica più di tanto. Dall'altra parte c'è Conte che non ha nessuna voglia di farsi un suo partito. Perché non ha voglia? Semplicemente perché non ha voglia. troppo traffico a mettersi lì a fare un partito. E pertanto i due si riavvicineranno, non si sa per quanto. Ma magari Grillo mette lì questo Conte e poi lo lascia fare, lui sta lì a Genova a pensare ai suoi problemi. Dovrebbe essere così. Però Grillo vuole che il suo ruolo di garante sia rispettato assolutamente. Pertanto dice modificate lo statuto, però io faccio il garante come lo facevo prima, che posso intervenire in comunicazione, posso intervenire nella politica, eccetera, eccetera. Vedremo quello che succederà. Poi nei prossimi video parleremo di Giorgia Meloni, di Del Debbio e di altre. Del Debbio che prenota Mauro Corona per settembre, ma lui dice sento prima la Berlinguer. E poi parleremo anche sempre di Beppe Grillo. E poi parleremo anche di Giorgia Meloni e il suo esame di maturità, quello che ha raccontato, anche sul centro-destra. E poi vedremo anche Meloni e l'appello europeista e altre cose. Vedremo Valtel Veltroni che vuole autocandidarsi per il Quirinale, Maletta gli chiude la porta in faccia. E poi vedremo Matteo Salvini e Giorgia Meloni sfidano la UE con la riforma. Vedremo un po' di notizie. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti. A presto. A presto.